I pubblici ministeri avrebbero voluto arrestare tecnici comunali e imprenditori coinvolti nell'inchiesta che riguarda Piazza della Libertà a Salerno. È uno dei particolari emersi nel procedimento che vede indagati anche il governatore regionale Enzo De Luca insieme ai membri della sua ex giunta. Il GIP Berni Canani però non ha ritenuto opportuno i 12 provvedimenti cautelari, non essendoci il pericolo di reiterazione del reato. Lo scandalo relativo a presunte spese gonfiate si arricchisce dunque di nuovi particolari, 25 in totale le personalità coinvolte. Fra queste, come detto, anche l'esecutivo allora in sella a Palazzo di Città a Salerno. Oltre a De Luca, fra gli indagati figurano anche gli assessori in carica nel 2011. Eva Vossa, Alfonso Buonaiuto, Gerardo Calabrese, Luca Cascone, Domenico De Maio, Augusto De Pascale, Anello Fiore, Ermanno Guerra, Vincenzo Maraio e Francesco Picarone. La bocciatura della richiesta di arresto da parte della procura riguarda invece i tecnici comunali Domenico Barletta, Lorenzo Criscuolo, Antonio Ragusa, Paolo Baia, il Claudatore Sergio delle Femmine, Marta Santore e gli imprenditori Enrico Esposito, Gilberto Belcore, Armando Esposito, Salvatore De Vita, Antonio Fiengo e Patrizia Lotti. I PM, Cantarella e Valentini non hanno presentato appello alla decisione del GIP. Nella ricostruzione accusatoria ci sarebbero intercettazioni telefoniche che inchioderebbero i diretti interessati. Insomma, a Salerno si tratta dell'ennesima inchiesta giudiziaria che interessa da vicino un cantiere aperto in città.